Musica Ben ritrovati a questa nuova edizione del Tg di Venezia. Apriamo la nostra edizione annunciando che già dalla prossima settimana sarà possibile prenotare le vaccinazioni. Questi vaccini anti-covid sono di ultima generazione bivalenti e più forti contro le varianti. 65.000 dosi sono già presenti nei frigoriferi della farmacia dell'ospedale dell'Angelo e a disposizione dell'US3 e 4. Altre 75.000 dosi arriveranno a breve. Si inizierà con i soggetti più fragili, over 60, le donne incinta e con chi non ha il primo e il secondo booster. Il direttore generale dell'US3, Edgardo Contato, ha annunciato che alla vaccinazione anti-covid si affiancheranno le vaccinazioni tradizionali. L'US3 ha programmato tre fine settimana di vaccinazioni per adolescenti e anziani. Oggi al Pala Expo, sabato prossimo all'Aspo di Chioggia e il 24 settembre al Bocciotromo di Mirano. E sempre in tema di sanità, ricordiamo che a settembre si celebra la giornata mondiale per la sicurezza dei pazienti, istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A tal proposito, l'US4, con la collaborazione del Centro Regionale per il Rilascio Clinico di Azienda Zero, ha organizzato per giovedì 15 settembre al Centro Culturale Leonardo da Vinci di Sandona di Piave un convegno dedicato alla sicurezza delle terapie farmacologiche. I relatori dell'US4 forniranno preziose indicazioni sull'uso sicuro dei farmaci, integrando anche semplici consigli sul corretto consumo, su eventuali abusi e sul pericolo che può conseguire al consumo assiduo e prolungato quando non necessario. Cambiamo argomento e parliamo del caro bollette. Secondo una stima elaborata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre, al netto degli aiuti sin cui erogati, ammontano a 82,6 miliardi di euro i rincari di luce e gas che le famiglie e le aziende italiane subiranno quest'anno rispetto al 2021. Di questi, almeno 10 miliardi sono in capo ai nuclei familiari e agli imprenditori veneti. Vediamo. Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza, dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di mille miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese. Questa mattina, poco prima delle 11, presso il centro commerciale Le Porte di Mestre è avvenuta una sparatoria tra banditi e guardie giurate. Secondo le prime informazioni, il conflitto sarebbe accaduto durante un tentativo di assalto ad un furgone portavalori. Un bandito è stato colpito da armi da fuoco e una guardia giurata è rimasta ferita e trasportata all'ospedale di Mestre per le prime cure. Gli investigatori stanno approfondendo le dinamiche. Questa mattina a Santa Maria di Sala un uomo, dopo aver visto la sua auto muoversi dopo essere stata parcheggiata, ha provato a fermarla ma è stato trascinato nel fossato. Sul posto sono arrivati, da mira ai pompieri e da Mestre, un autogru. L'auto è stata agganciata da un paranco e successivamente sollevata con l'autogru. L'uomo è stato estratto e preso in cura dal personale medico. Buone notizie da Jesolo perché l'amministrazione comunale, visto il grande successo di pubblico, ha deciso di prorogare fino al 9 ottobre l'esposizione delle sculture di sabbia. La 24esima edizione della mostra di sculture di sabbia si intitola L'Ordine dei Mondi ed è dedicata ai protagonisti della mitologia classica. Si compone di tre sculture monumentali, scolpite da artisti internazionali della sabbia. La mostra racconta la storia di grandi miti greci, Zeus sul Monte Olimpo, Poseidone e la sfilata con Atena, Ade sul trofeo degli inferi. Infine spostiamoci a Calalzo di Cadore perché ieri è stata inaugurata la prima palestra a cielo aperto della provincia di Belluno, realizzata all'interno del progetto Sport nei parchi di Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci e il comune di Calalzo di Cadore. Il sindaco di Calalzo, Luca De Carlo, ha sottolineato che si tratta di una struttura importante che permette di praticare attività fisica all'aria aperta, un'aria che consentirà a giovani e adulti di socializzare e di mantenersi in forma. Il primo cittadino ha annunciato che in questa zona nascerà la cittadella dello sport. Oltre a questa palestra qui si trova il campo sportivo e il nuovo campo sintetico. Questo diventerà uno spazio per gli sportivi di tutto il Cadore. La struttura sarà ad accesso libero. Sentiamo. Oggi qui a Calalzo abbiamo inaugurato un'area attrezzata che rientra nel progetto Sport nei parchi, finanziato da Sport e Salute e che è nato proprio nell'ambito del post-covid per riportare le persone a riappropriarsi di una propria attività fisica che era mancata completamente nella pandemia. Progetto partito in sordina che invece dopo, fortunatamente, grazie ad un ulteriore finanziamento, ha visto molti comuni avere la possibilità di poter attrezzare delle aree che in questo momento non erano utilizzate e di mettere alla disposizione della cittadinanza. Per cui aree dove si può fare attività fisica ma che possono servire anche e soprattutto come socializzazione e aggregazione. Aree che sono proprio per tutti, dai più piccoli ai più grandi, da tutti quelli che fanno già sport a tutti quelli che non lo fanno. Pertanto proprio per stare all'area aperta, per poter relazionarsi e poter dare anche valore, soprattutto per le amministrazioni locali, a queste aree che magari non sarebbero utilizzate. Il compito della cittadinanza sarà quello di utilizzarle e soprattutto di dare una mano con un grande senso civico alle amministrazioni per tenerle sempre più valorizzate. Un'area libera dove poter venire tutti i giorni sia da soli che qualche ora anche con dei professionisti che insegneranno un po' come adoperare questi attrezzi. Il tutto è costato 25.000 euro con 12.500 euro di contributo del Comune di Calalzo e 12.500 euro sport e salute. Con questa notizia è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti.